La vicenda Eco-M, la società pubblica privata per la raccolta dei rifiuti di Montesilvano, composta dal comune pescarese, la comunità montana, la Deco-SPA, si chiude definitivamente con la soluzione piena perché il fatto non sussiste per tutti gli imputati. Uno di questi è l'ex sindaco di Farindola Antonello De Vico, che per questo scontò 25 giorni agli arresti domiciliari in quanto accusato di essere il regista della vicenda e che adesso mostra tutta la sua soddisfazione per una vicenda iniziata nel lontano 2010. Poter nuovamente tornare su fatti, chiaramente per me come per altri indagati dolorosi e che risalgono nel tempo, parliamo di aprile del 2010 in cui fui posto addirittura agli arresti domiciliari per 25 giorni. Ne è scaturita una vicenda giudiziaria su tre filoni e su tutti e tre c'è stata l'assoluzione piena perché non c'è stata nessuna condanna di nessun imputato e nessun indagato, compresa la Eco-M dove sostanzialmente l'ipotesi mia era di una sorta di regia quando poi non avevo ruoli diretti, quando poi la magistratura giudicante tra l'altro con la prescrizione maturata è entrata nel merito e ha ritenuto tutti noi da assolvere con la formula piena che il fatto non sussiste perché questa sorta di regia che ho avuto per tanti anni ma sempre interpretata in positivo per la collettività e sugli enti sicuramente non ha debordato nel penale.